Musica 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 anche di crederci in quello che si fa ed è per questo che l'applauso più grande lo voglio che il comune di apricene tutte le istituzioni, le rivizioni urbane, tutti i coordinatori dell'ordine pubblico, l'associazione APEA, Croce Rossa, guardie ecologiche, il comitato istimo schiappato di Carmine da Bote per l'impegno verso un ambiente e territorio. Se oggi siamo qui però c'è una parte operativa, una parte che ci dà il cuore, mette le mani e sono i soci di movità che siamo arrivati ognuno della decima edizione per cui Apricena è un carnevale davvero affermato e io sono fiero anche rappresentante di Radio Picchio, la Radio di Apricena, di presentarveli. Ad uno ad uno è l'invito sul palco, Orlando Lauriora, applausi! Angelo Calasso, Lello Mastro Domenico, Rigola Pascosio, Anna Rita Mastro Giacomo, Andrea Biagio, Super Mario, Davide e Lea Deseris, Lorenzo Di Gennaro, Luigi Buono, Maria Speaker Gia Narciso Matteo e Gianna Rendina Barbara Dicatura Chi è il ragazzo?